Dobbiamo prendere in mano subito la missione Mare Nostrum, era una missione per contenere effettivamente gli sbarchi, è diventato un sistema di traghetti che fra un po' li andiamo a prendere sull'altra costa. Il problema degli sbarchi non finirà mai perché c'è un mondo che indubbiamente è attratto da un tenore di vita diverso, il problema è che il nostro paese deve fare i conti con i propri problemi, l'Europa boccheggia ma l'Italia è in ginocchio, la disoccupazione diciamo ordinaria, fuori al 13%, quella giovanile, insomma un giovane su due oggi non trova lavoro, cosa possiamo offrire noi a questa gente che arriva? Ormai credo non facciano neanche più notizia, la mia preoccupazione è che diventino una normalità, una normalità nella testa delle persone, nell'opinione pubblica e quindi venga gestita non più come un'emergenza ma con semplicità, come un qualcosa che noi dovremmo comunque interagire, comunque dare una mano, comunque accoglierli, quindi credo che questa sia la mia grande preoccupazione perché 50.000 persone che sono arrivate dall'inizio dell'anno penso siano una cosa esagerata per qualsiasi nazione. Oggi gli organi di stampa e le agenzie ci dicono circa una quarantina, ancora una volta Piacenza è protagonista di una nuova ondata di flussi migratori, ancora una volta Piacenza ospita clandestini nonostante questi abbiano provocato tantissimi danni e situazioni di insicurezza nella città di Piacenza. Noi diciamo al Comune di Piacenza che se vogliono ospitare nuovi clandestini lo possono tranquillamente fare nelle sedi del Partito Democratico. Ieri si è registrato un episodio che secondo me è allucinante, cioè 400 migranti sono stati caricati su due pullman diretti, uno a Roma e uno a Milano, all'arrivo alla stazione non c'era nessuno che li aspettava e questi si sono messi scalzi, affamati, assettati ad aspettare che arrivassero per caricarli e portarli al car. Ci sono state manifestazioni ieri a Roma, hanno bloccato la Tiburtina, c'è il caos totale, la gestione che era nata approssimativa si sta rivelando tale, aggravata dal fatto che il numero dei migranti è anche superiore alle nostre più funeste previsioni. È evidente che c'è una gestione dilettantistica da parte del Ministero degli Interni, da parte del Ministro Alfano, ma quello che è più grave è che c'è la volontà politica di pensare prima agli immigrati che non ai nostri cittadini in crisi. La Lega dice no, la Lega dice di ricominciare con i respingimenti che bisogna in modo fermo dire basta a questa immigrazione incontrollata.